ciao ragazzi bentornati eccoci qua come al solito con le super notizie la prima ovviamente la più importante veri mobile la tariffa nuova da 5,99 in winback soprattutto per chi vuole rientrare con la possibilità di avere anche il per sempre questo è veramente molto importante già in sé il contenuto della dell'offerta il prezzo sono molto forti con il per sempre aggiuntivo diventa veramente un'occasione più unica che rara però prima salutiamo nutelloso l'utente più veloce dello scorso video qui si usa fare così chi per prima commenta super saluto vi ricordo la iscrizione campanella tutti i social per contattarmi sotto e il link amazon per sostenere il canale clicca acquista e sostieni allora ragazzi partiamo poi qualche notizietta di mobile iliad veloce da sviscerarvi nel video qualcuno mi ha chiesto se state in ferie no ancora no ma ragazzi è stato un periodo di qualche giorno di pausa ci sta i video continueranno anche nel periodo di ferie anche se sono via io i video li faccio sempre saranno in aumento con nuove novità in arrivo con ampliamento di notizie eccetera quindi state sempre connessi iscrivetevi campanellina perché stanno arrivando molte novità il canale crescerà ancora di più e soprattutto i video continueranno anche quando sono se sono nei periodi di ferie sono via è sempre stato così e sarà sempre di più così allora ragazzi parliamo di questa tariffa di veri mobile a 5 99 al mese 200 giga minuti sms e adesso anche la possibilità del per sempre sta facendo una campagna di win back win back vuol dire rientro per chi ha fatto port auto cia portabilità è andato da un altro operatore per essere più con un linguaggio spiccio sei uscito da veri mobile sei mesi fa un anno fa ti arriva un sms per rientrare ci sono due tipologie di rientri 5 99 200 giga minuti sms 5 99 200 giga minuti sms per sempre quindi ti danno una tariffa col per sempre che per me è una religione voi sapete che il della fada padrone il per sempre è stato proprio il cavallo di battaglia il primo il da portare all'italia che fidelizza il cliente che non fa la rimodulazione insomma che non ci dà ci dà la possibilità di essere sicuri di quel prezzo e quindi il per sempre di di veri mobile aggiunge ancora più valore a questa tariffa una tariffa valida completa veri mobile ottima centrata 5 99 200 giga cosa vogliamo cioè di cosa stiamo parlando primo numero secondo numero va bene per tutte le numerazioni per tutti gli utilizzi che facciamo del nostro dispositivo ed è una tariffa sicuramente molto 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 appetibile quindi vuoi rientrare in veri mobile a 200 giga cerca se non ti arriva l'sms di quella di per sempre di farti mandare quello se si può ok anche quella allora parliamo poi che veri mobile le sue tariffe non le tocca mai cioè io non ho ad oggi notizie di tariffe sì ci sono stati dei cambiamenti ma chi ha la tariffa sempre rimasta quella quindi fortunatamente non ha questa abitudine di ritoccare rimodulare quindi è già molto garantita anche la tariffa 200 giga mentre se la fai poi oggi come oggi uno può fare quello che vuole sappiamo che non ci sono più limiti nelle portabilità nel nel provare un gestore come ti trovi eccetera eccetera quindi con poi veri mobile va molto bene però in per sempre aggiunge questa cosa in più che ci verrà anticipato il per sempre sulla tariffa quindi importante centrata bello questo discorso del per sempre bella anche quella senza il per sempre 5 99 200 giga in tanti mi chiede di 5g di veri mobile il 5g alla veri mobile vuol fare cose per bene quindi il 5g sarà un lancio in spolvero sarà un lancio importante includerà già delle offerte tre o quattro offerte forti con il 5g incluso con un prezzo molto forte con tanti giga e ci sarà la possibilità diciamo di passare al 5g anche per i clienti che hanno offerte ancora in 4g quindi sicuramente il 4g continuano a fare le sue offerte in 4g veri mobile ovviamente 4g plus eccetera eccetera e ci sarà la possibilità di avere anche il passaggio in 5g e soprattutto le nuove offerte in 5g per chi vuol fare portabilità per chi vuole attivare nuovi numeri quando non vi so dare una data precisa potrebbe essere in questo periodo quale state sta finendo dicevano in righiera non proprio siamo già comunque verso la metà di luglio quindi rimane un mesetto e mezzo poi settembre sapete che un po così siamo ancora 20 giorni di periodo estivo ma poi bisogna vedere per il tempo si spera in bene visto che quest'anno ha fatto brutto fino a poco tempo fa speriamo di avere ancora un paio di mesi un mese e mezzo belli e di concludere l'estate bene quindi è veri mobile potrebbe si avviare anche la il 500 la fine di luglio sicuramente o nel periodo la sorpresa di agosto che un periodo dove escono spesso sorpreso a settembre che la ripartenza di solito di tutto quindi diciamo che tra qua e settembre sicuramente veri mobile lancerà il 5g che potrebbe essere anche oggi stesso domani ovviamente se cioè è un prodotto imminente come quello di copvoce quindi siamo proprio vedete che tutti si stanno allineando al 5g 5g parentesi iliad veloce ha reso compatibili ulteriori dispositivi al 5g quindi il catalogo di dispositivi anche android di base di fascia medio bassa è praticamente completato cioè quasi tutti i dispositivi sul mercato in 5g sono compatibili con iliad piccola notizia il ha ampliato ancora di più e completato quasi tutto il format dei dispositivi 5g che si possono utilizzare con l'operatore francese un'ulteriore cosetta o mobile o mobile nella tariffa da 5 99 che è un'ottima tariffa forte ha dato la possibilità con 99 centesimi in più per chi vuole di avere il 5g quindi da 5 99 6 98 avete il 5g incluso nella tariffa quella quella forte da 5 99 quindi con 99 centesimi in più potete farlo anche self dall'app online potete abilitare il 5g di o mobile sulla tariffa molto forte da 5 99 anche questa era una notizia di intramezzo che era arrivata non era dedicare un video due notizie così 5g più compatibile quasi su tutti i dispositivi del mercato di iliad o mobile con un euro in più scarso potete abilitare 99 centesimi potete abilitare il 5g che poi il 99 centesimi è un euro alla fine l'euro tanti mi chiedono perché 99 perché fa psicologia se tu metti 200 euro sembra più caro commettere 199 sembra a livello psicologico una persona è più pronta a livello commerciale nelle vendite lo dico per esperienza mettere 200 euro non è come mettere 199 per statistica il 50 non dico tanto 5 persone su 10 saranno più improntate a comprare un prodotto a 199 con uno con scritto 200 perché 200 cifra piena sembra più caro 199 è un centesimo però sembra più basso a livello psicologico intanto lo devo comprare lo stesso ma 199 fa più diciamo più invitante l'acquisto a livello di impulso ecco acquisto di impulso quindi l'euro è così si mette sempre il 99 per far sembrare a livello psicologico che costa qualcosa meno in realtà 200 199 è un euro o 199 99 centesimo solitamente balla l'euro cioè si fa 199 399 fare 400 con l'euro è brutto anche vedere in effetti 400 più anche perché non è bello da vedere ma perché a livello commerciale si è sempre deciso di fare il 99 detto questa cosa che poco interessa ma comunque sempre qualcosa di più che aggiungiamo di informazioni a voi veri mobile quindi pronta alle grandi cose queste due tariffe di rientro vedete questi aspetti sono importanti perché quando un operatore lavora bene lavora anche su queste cose cioè veri mobile dice ti propongo la tariffa nuova flash benissimo ti propongo la tariffa dati nuova ampli aggiungo giga 400 e benissimo il prezzo è forte però ti propongo anche di tornare di tornare con 200 giga anche col per sempre a 5 99 quindi voglio che tu torni da me se poi se poi non vuoi tornare vabbè ognuno è libero di fare quello che vuole con i suoi soldi però io ti do questa opportunità quindi cura tutti adesso non è che si concentra solo sul nuovo sulla portalità e lascia chi è andato via cioè la completezza commerciale di un gestore anche questa di mettere più paletti più punti diciamo importanti nel mercato quindi andare a recuperare anche la quintela che è uscita con una tariffa come può fare un operatore ha solo queste armi quella di proporre una tariffa conveniente col per sempre eccetera eccetera il per sempre che io dico da una vita che gli operatori mi hanno ascoltato bravi bravissimi il per sempre importante perché come il 0 99 no è meglio perché il 99 è un euro in meno di 200 alla fine paghi 199 euro un prodotto non hai risparmiato un euro non hai un caffè ok è una cosa psicologica il per sempre invece ecco la tariffa rimarrà sempre così poi io voglio cambiare gestore io voglio cambiare tariffa sempre con lo stesso gestore va bene però il per sempre è per sempre always no se è always vuol dire che tu hai sempre forever quella tariffa e secondo me non è una cosa psicologica è una cosa concreta cioè l'euro è psicologico perché io compro un prodotto a 199 euro apposso di 200 bevo il caffè però è psicologico ok il per sempre concreto per sempre o con la tariffa fissa che non aumenterà quindi per quello io dico oramai è un po l'ha fatto copovoce il lad per prima ha seguito veri poi post mobile aspetta che chi era copovoce l'ha fatto anche copovoce altri gestori che na ogni tanto l'ha messo dentro c'è questo per sempre che che c'è che esiste che non è vero tanti gomma per sempre non esiste il per sempre esiste e non esiste per chi non lo attua non esiste per chi non lo attua le tariffe per sempre possono esistere i prezzi bloccati possono esistere esistono e per chi non lo vuole attuare non esiste ma è la libera scelta di non attuare è liberissimo se su un contratto c'è scritto che la tariffa è modulabile modulabile può essere in base alla legge governativa o gli aumenti dell'istat ogni l'incentivazione insomma ci può essere l'indicizzazione quindi un aumento nel tempo potrà aumentare tu lo sai la fai poi ti becchi l'aumento dici di se rimanere non rimanere se una tariffa è per sempre è per sempre come voi per sempre ciao e grazie come sempre grazie a tutti